amici 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 e amiche 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 buonasera vi voglio invitare giovedì 26 maggio ore 18 in via san giovanni a carbonara a napoli al primo memorial Ernesto Cacialli la leggenda della pizza meglio conosciuto come il presidente ci saranno degustazioni gratuite spettacolo dimostrazioni e premiazioni e a questo evento parteciperò anche io quindi non mancate vi aspetto in tantissimi ok ciao ciao ciao